Buonasera, tra poco il telegiornale, un telegiornale che si apre con le notizie sulla manovra perché ci sono delle misure che sono arrivate all'ultima ora e ci sono, c'è da subito, da lunedì prossimo, i ticket sui medicinali, ma arriva anche una misura livellatrice in qualche modo, un prelievo di solidarietà sulle pensioni più alte, le cosiddette pensioni d'oro. Chi prende davvero tanto di pensione si vedrà detratta una cifra che va appunto sotto forma di prelievo di solidarietà a favore evidentemente dell'interesse generale di fare cassa in questa fase. Sono tante però altre le misure in una giornata che è stata febbrile perché quando si comincia a incidere con misure importanti arrivano anche le pressioni delle lobby organizzate, ne parleremo anche nel giornale, ma in realtà oggi si è assistito a un allineamento delle figure chiave della tenuta nel nostro sistema, hanno parlato davanti ai banchieri sia il governatore della Banca d'Italia Draghi, che diventa come sappiamo capo della Banca Centrale Europea, sia lo stesso Tremonti che ha detto eloquentemente con una citazione latina, ic manebimus optime, quindi qui restiamo proprio bene, mettiamola così, diciamo italianizziamola così, qui ci resteremo e quindi il Ministro dell'Economia ha fugato ogni dubbio su voci di dimissioni, di difficoltà, di dissapori che potrebbero farlo trovare fuori dalla coalizione di governo e soprattutto fuori dal suo Ministero, visto che si è ventilato anche un cambio di poltrona. No, Tremonti resta e anzi si pone come garante della manovra in ogni suo passaggio parlamentare e anche nel quadriennio della sua attuazione, ma vedremo anche evidentemente che ci sono altri fatti. Che succede? Innanzitutto c'è un Ministro, il Ministro dell'Agricoltura, Saverio Romano, che affronterà un processo per concorso esterno in mafia, ma non lascia il suo posto e attacca Fini, che ha detto che si dovrebbe dimettere, ricordando la vicenda che ha caratterizzato l'estate scorsa, quella della casa di Monte Carlo, tanto per intenderci. Ma per Berlusconi il problema rimpasto c'è perché Alfano sta per lasciare la giustizia. Chi andrà al suo posto? E chi andrà al posto lasciato vacante a suo tempo da Ronchi, delle politiche comunitarie, proprio in questa fase, ma ovviamente ci sono anche tante altre storie che arrivano dalla politica, dalle inchieste giudiziarie, ma anche, non possiamo non parlarne dall'estero perché a Mumbai, una delle città più famose del mondo e più popolose dell'India, è successo esattamente quel che accadde tre anni fa, attacchi terroristici sincronizzati, che hanno portato ad almeno 20 morti, secondo il bilancio di pochi minuti fa, e più di 120 feriti. Ancora una volta il terrore a Mumbai, il terrore in India. Poi c'è il caso Murdoch, ovviamente, che a questo punto deve rinunciare a tutto e a tutto quello che aveva in procinto di assaltare in Gran Bretagna, cioè il controllo assoluto della piattaforma B Sky B e infine parleremo di Marco Pannella, di cui non si parla mai ed è però arrivato all'ottantacinquesimo giorno di sciopero della FAN. È tutto questo quello che vedremo tra poco nel telegiornale, un telegiornale che inizia come sempre con i titoli. Corsa contro il tempo per provare la manovra entro venerdì, bisogna fare cassa già da lunedì prossimo. Via libera al ticket di 10 euro sulle ricette mediche. Si toccano subito le pensioni d'oro. Un emendamento prevede che dal 1 agosto di quest'anno al 31 dicembre del 2014 ci sia un prelievo che va dal 5 al 10%. Tremonti ricorre a Tito Livio. Qui staremo benissimo per smentire le voci di possibili dimissioni. Anzi, il ministro rilancia e fa capire che accompagnerà tutte le fasi future della legge che dovrà portare l'Italia al pareggio di bilancio nel 2014. La borsa festeggia ancora. Processate il ministro Romano, lo chiede la procura di Palermo, per i magistrati avrebbe consapevolmente contribuito al sostegno e al rafforzamento dell'associazione mafiosa. Il ministro nessuna ragione per dimetterne i fini inopportuno che resti. Bisogna presto a decidere chi sarà il successore alla giustizia di Alfano. Sulla manovra opposizioni irresponsabili, ma il leader del PD rilancia dopo l'approvazione della legge di bilancio subito le elezioni. Oppure un nuovo governo che faccia la legge elettorale. Di Pietro boccia invece un eventuale governo tecnico. Un intreccio di amicizie e rapporti di potere emerge dalle inchieste giudiziarie in alto. Come in quel capodanno a New York, una compagnia che comprendeva non solo il milanese e la sua compagna, ma anche, come sappiamo, la Ferilli, De Sica, il marito della Ferilli, che è l'amministratore delegato di Terna. Fai gli invitati anche però figure di spicco della guardia di finanza. Nuovo attacco all'India. Tre esplosioni simultanee a Mumbai. Uccidono 17 persone, anzi 20, secondo l'ultimo bilancio e ne feriscono oltre 100. La polizia parla di bombe artigianali in quartieri molto affollati. Il ministro all'interno conferma è ancora terrorismo. Marco Pannella è all'85esimo giorno del sciopero della fame dopo aver interrotto quello della sette. Protesta contro le condizioni di vita disumane nelle carceri sovraffollate e chiede il ripristino della legalità degli istituti di pena italiani. Buonasera, quindi al centro dell'attenzione di tutti la manovra e al centro della manovra le misure che servono subito per fare cassa, se così la vogliamo dire in termini brutali. E tra le misure che servono per fare tassa ci sono anche i ticket che stanno già per arrivare. Non c'è tempo da perdere, bisogna fare cassa e subito. Per questo non stupisce che alcune delle misure scritte in queste ore dai tecnici al lavoro sulla manovra entrino in vigore già da lunedì prossimo. È il caso del ticket di 10 euro sulle ricette mediche di 25 euro per gli interventi del pronto soccorso in codice bianco. Non solo, la manovra sembra toccare un vero e proprio tabù. Le pensioni d'oro, definizione forse un po' populista per indicare chi percepisce a segni di vecchiaia oltre i 90.000 euro. Un emendamento prevede infatti che dal 1 agosto di quest'anno al 31 dicembre del 2014 ci sia su queste pensioni un prelievo del 5%, cifra che sale al 10 per chi percepisce oltre i 150.000 euro. Altra novità clamorosa, scatta subito il taglio delle agevolazioni fiscali che inizialmente doveva essere applicato solo in caso di bocciatura della delega fiscale. Si inizia col 5% nel 2013. Grazie agli emendamenti proposti dall'opposizione cambia l'imposta di bollo sui titoli. Sarà progressiva in base all'entità delle azioni detenute. Altra bomba che in queste ore sta scuotendo una buona fetta dei parlamentari di maggioranza è la minacciata abolizione degli ordini professionali. Misura rispuntata in mattinata contro la quale una quarantina di deputati, avvocati e medici della PDL avevano annunciato addirittura il voto contrario alla manovra. La situazione, diciamolo subito, non è ancora chiara e proprio per questo preoccupa i professionisti potenzialmente coinvolti. Maurizio Gasparri in serata ha parlato di preoccupazioni superate suggerendo che invece dell'abolizione degli ordini si parlerebbe di riscrittura. Poco fa il ministro Fitto ha annunciato un accordo proprio su questo tema. E cambiano anche i criteri di virtuosità dei comuni per l'applicazione del patto di stabilità interna. Si sa che è uno dei temi più controversi su cui ad esempio la Lega si è molto battuta. Un emendamento del relatore della manovra depositato in Commissione e bilancio del Senato prevede che il primo dei criteri sia la convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard. Un altro criterio sarà l'aver operato dismissioni di partecipazioni societarie. Questo per quanto riguarda le misure. Parleremo tra pochi istanti ancora della manovra. Ma è ovvio che ci sono tanti altri temi che si vanno mettendo insieme, sovrapponendo e a volte intrecciando in giornate convulse come è stata questa giornata politica sotto il cielo di Roma. Che cosa succederà al governo? Che cosa succederà al suo più prestigioso ministro? Allora, chiedo scusa. Cosa? Allora, vediamo appunto che cosa succede, stavo dicendo ma non mi davano l'informazione che mi serviva, che cosa succede al ministro più importante di questo governo, soprattutto in questa fase. Mi è stato suggerito di citare Tito Livio, E' meglio e più ottimo a mercati chiusi. Giulio Tremonti non lascia, non oggi, e non lascerà neppure dopo l'approvazione definitiva della manovra venerdì, ma ne accompagnerà le varie fasi e quel rafforzamento richiesto da Mario Draghi e che di ora in ora si rende più impellente. Lo promette il ministro dell'economia davanti al governatore di Banca Italia, ormai in procinto di passare alla testa della BCE, davanti ad una platea di banchieri e alle telecamere non solo italiane. Smentite in poche parole nell'incipit del suo intervento all'ABI le voci di chi lo dava tentato dalle dimissioni o spinto a darle per via delle inchieste su Marco Milanese, per le ragioni politiche dello scontro con il premier e tre quarti di PDL e del governo o ancora per i gossip che sono arrivati a sfiorare la sua vita privata. La formula con cui cita Tito Livio, mi hanno suggerito di dire così con un soggetto sottinteso, serve a far capire che la decisione di restare non è solo sua, e concordata con altri che immediatamente nel PDL vengono identificati con Giorgio Napolitano. Perché la speculazione è sempre in agguato, i mercati che ora danno tregua potrebbero tornare a colpire l'Italia e Tremonti può porsi come una garanzia di stabilità, almeno per ora. Certo, quel soggetto sottinteso, quel mi è stato suggerito, certifica contemporaneamente la debolezza del ministro dell'economia, costretta ad una collegialità da sempre rifiutata ai colleghi ministri. Siamo diventati una repubblica presidenziale, e meno male, osserva un esponente del PDL, fin qui fedelissimo di Berlusconi, a missione di un'assenza del Premier, di una posizione defilata che preoccupa il partito. Oggi Berlusconi ha evitato una conferenza stampa con Michela Vittoria Brambilla, rimasto a Palazzo Chigi, come dire che non servono chiose o aggiunte alla nota rassicurante di ieri. Potrebbe invece, se fosse confermata la sconvocazione del Consiglio europeo straordinario sull'euro, andare a Belgrado per un summit bilaterale. Profilo basso, insomma, in attesa che si chiarisca la situazione, si valutino le ricadute politiche delle inchieste e la partita parlamentare sulle richieste di arresto per Papa e Milanese, le variabili in campo e soprattutto in attesa di lunedì, giorno del verdetto dei mercati sulla manovra e su Giulio Tremonti. Il quale Tremonti, l'abbiamo visto da quella citazione, da quello suo Icmanebibus Optime, aveva parlato davanti ai banchieri e aveva parlato anche Draghi, in un'iniezione doppia di fiducia che è servita anche ai mercati. Il decreto per il pareggio di bilancio sarà rafforzato su tutto il quadriennio. Sarà approvato entro venerdì. Tremonti non ha dubbi, il paziente italiano si è stabilizzato o almeno la manovra taglia deficit dovrebbe sopire la furia speculativa che ha avuto come obiettivo principale nelle ultime settimane il nostro Paese. Poche parole che non entrano nel merito del provvedimento. Ci entra invece, come, il governatore Draghi, che conferma che la manovra presentata dal governo rappresenta un passo importante nel risanamento dei conti pubblici. Il presidente in pectore della BCE però va oltre. Se non si incide anche su altre voci di spesa, il ricorso alla delega fiscale e assistenziale per completare la manovra nel 2013-2014 significa un aumento delle imposte. I mercati apprezzano il tempismo di Tremonti, la parola di Draghi e l'insolito vento d'austerity che gira nei palazzi della politica romana. Piazza Affari apre in positivo di oltre un punto percentuale e chiude ancora più su a più 1,79%. E anche nel resto d'Europa le piazze sono in nero tranne Lisbona e Atene che oggi ha avuto un nuovo declassamento del debito. Ossigeno fresco per l'Italia arriva anche dall'agenzia Fitch che fa sapere l'Italia è in grado di conservare il rating attuale. Il suo debito pubblico non si trova su un percorso insostenibile. La crisi di oggi dipende dalla fiducia dei mercati e non da un deterioramento dei fondamentali dell'Italia. Ora gli occhi sono puntati, oltre che sull'approvazione della manovra, su un altro test importante per i mercati finanziari. L'asta dei buoni poliennali del Tesoro prevista per domani. Insomma, l'Italia è arrivata in cima alla salita ma non è ancora arrivato il momento di tirare il fiato. No, perché tra l'altro c'è un problema che riguarda un ministro. Non è facile già la situazione, la navigazione del governo. Ma quando poi c'è un ministro che dovrà fronteggiare un processo per concorso esterno in associazione mafiosa, vediamo. Nessuna ragione per dimettermi. Resto ministro a testa alta. Era considerato l'enfant prodigio dei politici siciliani di centrodestra. Ora va incontro a un processo per mafia. La parabola di Saverio Romano, 46 anni, passato dalla vecchia di C nelle file dei responsabili, diventato ministro dell'agricoltura, nonostante le riserve del capo dello Stato, oggi segna una data nera. Il giorno della richiesta di rivia giudizio per concorso in associazione mafiosa. Due paginette firmate dai PM palermitani che lo condannano al processo. Un atto dovuto dopo che la settimana scorsa il GIP respingendo la richiesta di archiviazione ne aveva ordinato l'imputazione coatta. Nella sua veste di esponente politico e di parlamentare scrivono i magistrati ha consapevolmente contribuito al sostegno di Cosa Nostra. Si parla di rapporti diretti con boss della mafia in cambio di voti per almeno due decenni. A coinvolgerlo dichiarazioni di pentiti, intercettazioni, incontri e un pranzo a Roma a Campo dei Fiori alla vigilia delle elezioni del 2001. Una tavolata di siciliani. Insieme a Romano, il boss Francesco Campanella, oggi pentito, l'ex governatore Totò Cuffaro con un suo collaboratore e un magistrato, allora in servizio al Ministero di Via Arenula. Uno dei commensali per scherzo avrebbe detto Saverio tu sei candidato ma lo sai che Campanella non ti vota? E Romano rivolta Campanella con fare minaccioso. Mi devi votare perché siamo della stessa famiglia. Se non lo sai scendi a Villa Abate e ti informi. Secondo i magistrati per famiglia si intendeva quella mafiosa di Villa Abate. Pochi giorni dopo, il 13 maggio, si vota. Nelle liste della Casa delle Libertà Romano, allora a 37 anni, risulta il secondo eletto più votato in Sicilia con il 67% dei consensi e il più giovane. Adesso in molti chiedono le sue dimissioni. Il presidente della Camera, Fini, dichiara che la sua permanenza al governo è un problema di opportunità e sottolinea la gravità del reato che definisce inquietante. Il problema analogo aggiunge Fini a quello che riguarda Marco Milanese e Alfonso Papa. Ma lui di lasciare la poltrona non ci pensa proprio. In una conferenza stampa contrattacca e sembra rivolgersi proprio a Fini. A questo Loni dice che si ergono a difensori della morale che hanno favorito i propri familiari. Vorrei dire che se l'opposizione ha tutto il diritto di chiedere le mie dimissioni, altri che svolgono ruoli di terza età non hanno diritto di intervenire. E si definisce vittima di una ritorsione per aver salvato con il suo voto di responsabile il 14 dicembre scorso la maggioranza e il governo. Chissà come il Quirinale accoglierà la notizia su Romano. C'erano state le perplessità dello stesso Napolitano all'atto della proposta di Berlusconi e del governo di associare appunto al Consiglio dei Ministri questo nuovo Ministro delle Politiche Agricole in nome dei responsabili. Anzi, fu proprio la nomina di Romano a Ministro a portare al cambio di maggioranza formale alla richiesta da parte della Presidenza della Repubblica del dibattito parlamentare. Ma resterà Romano al suo posto, lo si vedrà nelle prossime settimane. Quel che è sicuro è che comunque il Presidente del Consiglio è alle prese con la necessità di qualche ritocco e forse addirittura di un rimpasto. Ronchi mai sostituito Alfano in uscita ma ancora senza successore, la poltrona di Romano in bilico dopo la richiesta di rinvio a giudizio formalmente depositata dalla Procura di Palermo. Il governo perde i pezzi o li potrebbe perdere nell'immediato futuro. Berlusconi a meno di quattro mesi dall'ultimo rimpasto, quello necessario a sostituire i ministri finiani usciti dalla maggioranza, potrebbe essere costretto a nuove nomine. Il Premier punterebbe ad un semplice cambio della guardia senza passaggio parlamentare, ma il precedente, proprio del rimpasto di primavera, fortemente voluto dal Capo dello Stato, potrebbe costringerlo ad un vero e proprio Berlusconi bis con tanto di voto parlamentare che per la maggioranza diventa sempre più a rischio. Ma Berlusconi non sembra poter rinviare. Il ministro Alfano nel giorno della sua investitura a segretario PDL ha annunciato che avrebbe dato le dimissioni da titolare della giustizia appena approvato il nuovo codice antimafia. A Mirabello lo scorso fine settimana aveva ipotizzato un anticipo ulteriore parlando di dimissioni prima della pausa estiva. Sfumature, il buco si aprirà di sicuro e il nome del sostituto non è stato ancora individuato. Non partecipo al Toto Ministri, ha detto oggi Frattini, il candidato più autorevole alla poltrona di Alfano dopo il no di Lupi e Cicchitto. Sicuramente il nome del candidato dovrà superare il gradimento del Quirinale. Napolitano ha già fatto capire, proprio in occasione della nomina di Romano all'agricoltura, che i nomi devono essere all'altezza del compito. Il capo dello Stato poi difficilmente accetterebbe un interim del Premier proprio alla giustizia. E l'opposizione? Bersani a questo punto dice la strada maestra dopo la manovra sono le elezioni anticipate. Insiste Bersani, dopo la manovra si voti o si faccia un nuovo governo. Le due opzioni leitmotiv di PD e UDC, rilanciate proprio mentre in Parlamento, si approva la finanziaria sprint sotto gli occhi dei mercati e grazie alla decisiva rimozione di ogni ostacolo da parte dell'opposizione. Dopo il varo della finanziaria, bisogna aprire una fase politica nuova per far riprendere il cammino al paese, dice il segretario democratico da Beirut, una delle tappe del Sotur Medio Orientale. Per noi la strada maestra sono le elezioni, ma siamo pronti a considerare una fase di transizione per cambiare la legge elettorale, anche se non sembrano possibili gli spazi. All'ipotesi di un nuovo esecutivo, al passo indietro, al disarcionamento di Berlusconi, quindi non crede troppo, e non è una novità, neppure Bersani, che d'altra parte non ventila le dimissioni di Tremonti. Non basta il cambio di un ministro, serve il cambio di tutto il governo, occorrono nuovi protagonisti, non chi ci ha portato fin qui. Perché ciò che premia il segretario del PD è sottolineare l'atteggiamento assunto dall'opposizione di fronte alla manovra nel momento dell'emergenza nazionale, capitalizzare la risposta all'appello alla responsabilità del capo dello Stato, senza però rinunciare al profilo di opposizione al governo, mantenendo le distanze da una manovra non condivisa e necessariamente impopolare. Così Bersani rivendica. Il nostro senso di responsabilità mostrato davanti alla manovra ci dà la forza per dire che noi non siamo d'accordo con la politica economica di questo governo, che è sempre stata sbagliata, e avverte. Con la manovra purtroppo non risolveremo tutto. Consapevolezza, insomma, che la stagione dei sacrifici è solo all'inizio, che altre chiamate alla responsabilità arriveranno, con l'effetto di consolidare l'intesa bipartisan per salvare i conti con il Curinale in prima linea, il Premier defilato, la maggioranza blindata dai rischi finanziari e l'opposizione a rischio di logoramento. Intanto di Pietro boccia senza appello a un eventuale governo tecnico, sarebbe una mucchiata, ci vogliono elezioni subito, dice il leader dell'IDV. E la maggioranza, con capezzone, attacca il segretario PD. Con le sue ipotesi arrivano gli speculatori. E poi ci sono le inchieste che riguardano parlamentari. Domani si vota su Papa, quel deputato del PDL, che insieme a Bisignani, secondo alcuni proprio teleguidato da Bisignani, si procurava notizie che non poteva ottenere lecitamente riguardo a procedimenti o indagini in corso. Alla vigilia del voto, Papa ha prodotto una serie di nuovi documenti. C'è chi dice addirittura una chiavetta con 16.000 pagine di tutta l'inchiesta, il che forse mira a procrastinare il voto di domani. Ma anche i PM hanno legato nuovi atti, 400 pagine, virgolette, soltanto, in cui si parla di una crociera da 11.000 euro, ma anche di bottiglie di champagne costosissime, di massaggi, sedute di pedicure e manicure, durante i soggiorni in alberghi di lusso, un lungo elenco di incarichi e consulenze ottenute dalla moglie da società pubbliche di rilevanza nazionale. Ma a proposito di crociere e viaggi premio, fa sempre scalpore quella che si è scoperta, quella vera e propria vacanza di Natale. Lo sai in dove sto? A New York! A New York! Metti un capodanno a New York, come si addice ai VIP, manager, attori, politici, un'allegra compagnia di giro. 29 dicembre 2009, a festeggiare l'arrivo del nuovo anno nella Grande Mela, c'erano Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Terna, con la sua compagna Sabrina Ferilli, Manuela Bravi, portavoce del ministro Tremonti, e l'onorevole Marco Milanese, Cristian De Sica, e la moglie, Silvia Verdone. «Non è magnifico, sembra di essere in un film», disse Milanese alla sua compagna, mentre sollevava una coppa di champagne al bar dell'Hotel Plaza. Il conto salato lo pagò Alfonso Gallo, imprenditore napoletano legato con Marco Milanese da un rapporto che l'ex consigliere di Tremonti definisce di sana amicizia. Scene da cine panettone che raccontano altro, viaggi, cene per saldare amicizie e rapporti di potere. Un sistema diffuso, l'armatore napoletano Nicola Dabundo, che puntava a ottenere il ripristino degli sgravi fiscali per i dipendenti marittimi e a ottenere appalti al Ministero della Difesa, pensò bene di offrire una crociera in Tunisia. A bordo c'erano, oltre ad Alfonso Papa, magistrati, calciatori, personaggi dello spettacolo. Ovviamente nessuno di loro pagò. Tutti insieme allegramente, amici e amici degli amici, tra gli invitati a New York c'erano l'ex finanziere Giuseppe Lasco e il generale delle Fiamme Gialle, Emilio Spaziante. Dalle carte dell'inchiesta sulla P4 emerge che Spaziante, a capo della sezione interregionale del Lazio, sperava di diventare comandante generale attraverso i buoni uffici di Milanese. Ed emerge la figura di Giuseppe Lasco, ex inquilino e conoscente di Sabrina Ferilli, assunto da Flavio Cattaneo come capo della sicurezza a Terna. Dice Milanese davanti ai magistrati di Napoli, mi resi conto che Lasco aveva assunto all'interno di Terna una posizione di potere sproporzionato, addirittura quando Paolo Berlusconi doveva chiedere un favore, si rivolgeva a lui anziché a Cattaneo. Particolarmente stretto il legame di Lasco con il generale di Nolfi, capo di Stato Maggiore delle Fiamme Gialle, considerato la talpa di Papa e Bisignani, e con il penalista romano Luigi Fischetti, incaricato da Terna per una serie di consulenze legali. Erano loro a comandare a Roma, racconta Milanese ai magistrati e aggiunge ad una cena organizzata da Lasco e Fischetti «Fui avvisato che avrei passato un guaio giudiziario». Secondo il direttore delle relazioni esterne di Fimmeccanica, Borgogni, Lasco era il braccio armato di Cattaneo, un finanziere molto chiacchierato. Ebbene introdotto, tra le sue conoscenze, anche il comandante generale dell'arma dei carabinieri Gallitelli e il procuratore aggiunto di Roma Capaldo. La figlia del generale di Nolfi, già segnalata per uno stagio in Fimmeccanica da Emma Marcegaglia, da un paio di mesi lavora interna e nella società che gestisce la rete di trasmissione dell'elettricità è stata assunta anche la figlia di un altro ufficiale delle Fiamme Gialle, il generale Cretella. Terna ha sempre operato nel rispetto di tutte le norme di diritto e delle procedure aziendali, si legge in una nota dell'azienda, mentre dal canto suo Lasco dice «Su di me solo una carrellata di calugne, i miei rapporti erano amichevoli e cordiali, non finalizzati a lobby e cordate di alcun genere». Cos'è un bacio, un apostrofo, rosa, eccetera, eccetera? Ma le parole di Cyrano de Bergerac sono riecheggiate in modo diverso in una importante seduta processuale. Il discorso è molto semplice. Eccola qui. C'è una foto tratta dal fascicolo del pubblico ministero e io ho messo sotto un quadro del 1600. Se voi vedete differenza, ditemelo. Se qualcuno di voi si emoziona a aumento di pressione sanguigna o altre reazioni, diciamo così, particolari, mi spiace per lui. Vado da un medico. E alla fine nel Ruby Gate entra anche il pittore pre-Raffaellita Joseph Solomon. L'avvocato della Minetti in udienza sventola il suo quadro vicino alla foto di un bacio saffico allegato agli atti. Una delle protagoniste dell'effusione sembrerebbe proprio lei, Nicole. Gli avvocati chiedono il proscioglimento e sulla scorta di Fede e Mora il trasferimento dell'inchiesta a Messina. Il professor Corso, subentrato nella difesa della Minetti a Daria Pesce dopo le sue interviste eterodosse a Lerner e Santoro, s'affana per due ore in aula di fronte al pubblico ministero che nella sua requisitoria ha definito la consigliera regionale amministratore del bordello. Se ci fosse un bordello probabilmente ci sarebbe un amministratore. Lei è una ragazza che ha avuto nella vita, ha fatto certe scelte. Nell'ambito di un rapporto è normale che ci sia un dare e avere. Un rapporto sentimentale anche? Un rapporto sentimentale, certamente. È normale che ci sia un dare e avere. Però quello non è un avere privato, avvocato. Infatti non è un avere privato, infatti non gliel'ha dato Berlusconi. Gliel'han dato i cittadini italiani che hanno votato quella lista. La difesa della Minetti è semplice. La ragazza era solo una delle tante favorite di Berlusconi. Un anno è stato il momento di una, quello dopo di un'altra, il prossimo magari di una di voi, dice l'avvocato alle giornaliste in tribunale, suscitando una certa indignazione. C'è chi ha avuto una mini-minor avverte corso, chi un posto in regione. Così vanno le cose oggi in tribunale. Gli avvocati di Mora non ci sono perché sono andati in carcere. C'è interrogatorio per il loro cliente detenuto da un mese per banca rotta fraudolenta. Mora resta per cinque ore sotto il tiro incrociato delle domande dei due pubblici ministeri che l'hanno accusato di aver fatto un crack da otto milioni di euro. La procura fra l'altro non conferma che in Svizzera la gente dei VIP non abbia più un euro. È stato un interrogatorio soprattutto sul discorso delle scritture contabili e ci sarà un proseguo. Come sta lui? Come sta lui? Come sta lui? È piuttosto provato. Il Ruby Gate 2 ora va in vacanza si riprende il 3 ottobre. Probabili repliche poi Camera di Consiglio e decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio. Nell'autunno del 2008 il mondo ha prese con comprensibile terrore che una delle più grandi città dell'Asia Mumbai era sotto attacco concentrico da parte di diversi gruppi terroristici di diversi drappelli di attentatori che avevano preso d'assalto alberghi o altri siti di interesse e il bilancio fu spaventoso allora. Tre anni dopo Mumbai è tornata improvvisamente nello stesso tunnel del terrore. Tutto in pochi minuti tra le 6 e 45 e le 7 della sera Mumbai dopo quasi tre anni torna ad essere la capitale del terrore. Un attacco terroristico coordinato la definizione del ministro dell'interno indiano colpisce la megalopoli popolata da oltre 13 milioni e mezzo di persone. La prima esplosione invesse il quartiere di Javeri Bazar mercato di gioielli vicino al famoso tempio di Mumbadevi stessa scena pochi minuti dopo nel rione di Dadar nei pressi di una fermata dell'autobus. Panico e sangue le ambulanze corrono da una parte all'altra della città ma non è ancora finita passano 10 minuti in un'altra zona a sud di Mumbai il lussuoso quartiere di Opera House un altro ordigno nascosto sotto un ombrello esplode e uccide a Charny Road ci sarebbe anche un quarto ordigno rimasto in esploso e i primi rapporti della polizia spiegano che la tecnica utilizzata è quella afghana in tutti e tre gli attentati infatti sarebbero stati utilizzati ordigni esplosivi improvvisati IED una sigla tristemente nota ai militari della coalizione impegnati in Afghanistan Il bilancio delle vittime cresce con il passare dei minuti prima 3 poi 10 poi 17 poi oltre 20 vittime e chissà quale sarà il bilancio finale i feriti sono centinaia la polizia di Mumbai invia SMS ai cittadini chiedendo di mantenere la calma e rimanere in casa secondo alcune indiscrezioni la stessa polizia sarebbe stata avvertita degli attacchi con una telefonata poco prima delle esplosioni il ricordo della strage di novembre 2008 torna prepotente per chi deve intervenire oggi allora un comando di militanti islamici terrorizzò la città e l'India intera per quasi tre giorni nella capitale economica dell'India furono colpiti due hotel di lusso una stazione ferroviaria un ospedale e un centro ebraico i morti furono quasi 200 tra cui 27 stranieri compreso un italiano l'attacco si concluse con un blitz delle forze speciali nell'hotel Taj Mahal simbolo della città l'azione fu attribuita al gruppo terroristico pakistano del Kashmir Lashkar e Taiba gli stessi terroristi che secondo i media indiani potrebbero essere dietro agli attacchi di oggi se così fosse si tratterebbe di un nuovo durissimo colpo alle relazioni diplomatiche tra New Delhi e Islamabad tra India e Pakistan c'è un uomo che ha caratterizzato gli ultimi 40 anni della politica italiana di cui si parla pochissimo eppure ancora in trincea con i suoi scioperi della fame e della sete da 85 giorni Marco Pannella non mangia in nome del popolo italiano 20 giorni fa Marco Pannella appariva improvvisamente di notte sui muri della RAI di Via Teulade e del carcere di Regina Celi un blitz che proiettava come fosse il megaschermo di un cinema il videomessaggio del leader radicale un messaggio lanciato agli italiani e alle istituzioni un'azione non violenta che vede protagonisti circa 15.000 detenuti familiari cittadini per chiedere che l'Italia rientri nella legalità democratica per denunciare il sovraffollamento delle carceri e per chiedere un'amnistia per la Repubblica oggi come 20 giorni fa Pannella che è all'85esimo giorno di sciopero della fame dopo aver sospeso quello della sete continua a rivendicare legalità in carcere come per Ismail Iltaief ex detenuto tunisino che nel carcere di Belletri avrebbe subito violenze fisiche e psicologiche e l'obiettivo oggi sia chiaro dobbiamo ottenere che lo Stato italiano che oggi rispetto alla legalità internazionale rispetto alla giurisdizione della legalità europea soprattutto rispetto alla Costituzione della Repubblica è letteramente nella condizione sulla giustizia e sulle carceri che ne sono un appellito di quello che si può chiamare chiarissimamente lo Stato italiano oggi è di natura criminale professionale il Presidente della Repubblica aveva scritto una lettera a Pannella chiedendogli di sospendere lo sciopero pur condividendo le ragioni dell'iniziativa e il Presidente del Senato promise che avrebbe messo a disposizione la sede del Senato per un convegno che aiutasse a conoscere la situazione delle carceri domani Schifani e Pannella si incontreranno e il Satiagra per la giustizia e la democrazia potrebbe finalmente fare un passo in avanti tra poco in onda è riuscita a assicurarsi un ospite che non va mai in televisione Pier Ferdinando Casini ci fermiamo E ancora su Giulio Tremonti l'ultima notizia è un comunicato del procuratore di Napoli Lepore in riferimento a alcune notizie di stampa destituite di fondamento ribadisco ancora una volta che il Ministro Giulio Tremonti non risulta assolutamente iscritto nel registro degli indagati di questo ufficio e che debba essere ascoltato come persona informata sui fatti nei prossimi giorni insomma niente Tremonti è tutto vi lascio in onda buonasera domani